Giorgio Giorgio ho preso davvero? Ma lo odi? Cosa lo prendi? Lo so, ci voglio provare dai Ma è utile nel 2 Giorgio, nel 1 non so che fa Non l'ho mai usato Qui ti odi che dobbiamo fare no? Si spingere i barili Vuole schippare lui Vuole schippare tutto Moro fai una cosa Fai una cosa per me L'ho fatta prima la cacca Vabbè la faccio dopo la faccio No Moro che perdiamo tempo dai Dopo la live Ah ok Presto 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 venite Spingi Moro spingi Presto Aiutatemi Ah ce ne erano 2 2 2 2 Spingi spingi Sto spingendo Moro Mi aiuto anch'io Non puoi vai a cercarmi roba drogato Non perder tempo che siamo in very hard Siamo in very hard Sbrigati Si triggera subito si triggera Mi convince dai cessi Non c'è un cazzo C'è la chiave nei cessi C'è la chiave nei cessi C'è la chiave nei cessi è un oggetto speciale nel bagno delle donne e basta ora andiamo di corsa su e chiudiamo le tavole al volo ti stai mettendo una vita ma cosa clicchi seleziona la cazzo di chiave lui clicca devi stare calmo c'è pallinino ciao valen a bronze statue io devo andare a dare il cencio sopra vado a farmi passare drogato vedi che ce l'ho scopettone in mano piantina blu verde via tutta vado a prendere io il giornale qui che c'è di qua che c'è di qua non mi ricordo c'è un moro nudo ma dai di già cosa sono già entrati io c'è avuto il caricamento della porta eccole ma li vedo ora pure salta moro stanno arrivando vai a bruciare tutto siamo premete start io ho premuto start mi ho premuto ma si sono separati tipo i video io ero quando quando ti è cominciato il video io stavo caricando la porta io l'ho skipato il vostro è rimasto lì nell'oblio niente dura più 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 di tutto il gioco sto video ancora non è finito io sto già dentro la stanza sto già facendo roba no fino adesso vabbè oh eccoci stanno arrivando vai è bruciato tutto o che ne facciamo del cielo non lasciare nulla ora ti farò vedere come sistemi blocca tutto blocca tutto finiscilo con piacere vado di zombo con piacere però non ti ce n'è già hai trovato la chiave? no non mi guarda nella stanza di direttore non venire nella stanza quella grande ci so già io quella dove bisogna mettere la bottiglia eccolo qua drogato di merda per mai drogato di merda ci sono io lì vedi che hai lasciato la roba hai lasciato sì il giornale ho lasciato vaffaculo niente bulla bulla è bullismo no non farti colpire che ti tolgo non stai la vita con un colpo bastardi trovata la qui davanti nessuno prende la stanza giusta perché fa schifo niente devi bullare fagi bullo no si è ah lo primo bordo cazzo è a pazzo niente niente zombo di merda è aperto no dove sei? sono ancora in quella stanza sto finendo di esaminare oh cosa mi fai? fuga pure ora qui c'è una piantina rossa e qui c'è un minuto di zombie happy mh cazzo è una piantina rossa Sto scendo adesso dalla starla Vesta, vesta, vesta che c'è un milione di zombie Ma un milione è mica per scherzare, cazzo No Ma io li sento Ma non coscio quel maiale, mi tocca vedere la cantina Vede rossa Ho capito, si sono messi dentro la porta, non posso prenderli Distraili, distraili Vado a prendere io la bottiglia Che c'ho due cure Perché sento sparare? Sarà lui che spara? Si, perché sta sparando? Perché li sta affrontando, se sono infiniti, cazzo Perché? Perché sono davanti alla porta E tu clicchi x e vai avanti No, la stanno buttando giù, non mi fanno cliccare Allora li sposti, ci dai una botta E non mi cagano Oh Oh finalmente Vai sulla scaletta tu mò Cosa sta succedendo a questo zombie? Che fallo il zombie Meglio che non te lo dico Ma devo entrare io Levati, ma guarda questo Si mette davanti Ma io da un botto sono entrato Ma io da un botto sono entrato Ma ce l'ho con lo zombie Ti chiami zombie? Scusate Dai Dai anche qui Che curo le animazioni mi hanno salvato, cazzo Tu non hai idea Ah 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 fermo moro diventiamo una cosa unica non mi distraire stronto no mentre faccio queste cose ora io ho una arbetta rossa se la vuoi io ti do una verde e ti curi di sera non ce l'ho vista stanno già sfondando la grado e mi sei blocco vada via qua facciamo a cambio hanno già aperto via arrivi no ci bullano io ho il bastone come cazzo si fa a combattere i corvi ora gli ero dimenticati i corvi io no cazzo ma non ti amoro non lo sbaglio tasto ma che stai sparando non c'è niente qui c'è un corvo lì ti mi scherrendo io vaffanculo no è scarico sfondalo quella porta veloce sfondalo vai c'è roba dentro quello non è sfondare è provare ad aprire calma è con questo bullismo subito è una forte di osp lì è una forte di osp kit medico ve lo lascio non ce lo piglio eh mettiamolo qua dall'host si vabbè è un caricatore per la pistola perchè ci abbiamo la pistola noi basta c'ha solo quello davvero potevamo anche andare avanti allora fanculo sta porta ma niente non c'è mai un cazzo in veriardo è giù tanto che ho trovato un tubo di billy fair comunque si sono buggati gli zombie ad ora però qui qua a rompere i coglioni va bene dai vediamo chi fa il salto è morto lo fa attention non ci abbiamo un'arma che si è per il pezzo dopo come cazzo si fa non schippano aranciro non schippano hanno schippato bravi ragazzi bravi bravo aranciro è perché me ne ero appassionato al discorso correte avete tre minuti presto presto ha mandato prima me hai ragione no ha già cliccato ne lo sapevo io ce l'ho fatto amoro ce l'ho fatto amoro non può mentire l'abbiamo fatta anche vediamo se lo fa Kenino vai Kenino vai Kenino vai Kenino un momento un momento proprio topico dopo 40 ore di gioco finalmente ho fatto quel salto ma che arriva io la colpisco voi entrate via la porta si è chiusa bastarda apritela apritela la tengo io apritela presto via ok questo è il cuore di tuo io dove moriva Skid fammela prendere che c'è spazio correte correte a sinistra come è merda c'è c'è un verbetto rosso lì vabbè c'erano tre c'erano tre non ti preoccupa sono pieno di curo ciao Wafleon perfino c'ho quattro cuore complete non ti preoccupa aspetta fermi 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 vuoi Natura c'ho Kenino vuoi lo spray vai ti lo spray ma che sei preso il coltello che avevo buttato via gg allora mi serve uno slot libero moro ti do questa tienila tu vado a prendere la pistola al volo voi spingete le macchine ah ma è vero che io posso fare nel build dividetevi le macchine uno spinge quella avanti uno spinge quella indietro uno spinge quella indietro se spingi quella quella indietro Kenino io prendo la pistola al volo e se la perdiamo se la perdiamo so cazzi quella ci serve c'è anche mi sembra usci la pompa nooo non c'è il pompa da hard in giù c'è la pistola al suo posto che non ci serva un cazzo la pistola contro sti cosi questi vanno evitati e basta non provate manco a combatterli come questa io no 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 non fino in fondo spingila fino in fondo no 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 spingi fino in fondo mamma mia quanto ci manca mi stanno bullando vai moro spingiti non mi stanno colpendo non c'ho come no non ti colpiscono vai tranquillo Ken ha quasi fatto vai vai spingila spingi quella macchina Kenino spingila sta spingendo gg è tutto fatto 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 gg 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 ora è la parte più difficile del livello ragazzi abbiamo armi eh qua dobbiamo solo schivarli ragazzi dovete soltanto cercare di non fate che sti cosi saltano solo dove stanno guardando quindi schivateli sempre di lato girateli sempre intorno di lato e non stateli mai di fronte erbetti erbetti ovunque io cerco di distrarvene il più possibile ma stanno venendo verso di voi non mi cacano a me non mi cacano sti bastardi eh ahhh ahhh che ahhh no hanno preso il poliziotto aiuto allontanati dalla porta Ken se non lo ammazzano torniamo verso indietro verso indietro verso l'altra porta qualcuno riesca a ammazzarlo spero no e anche te scerzi arrivano ahhh ahhh Kenino ce ne hai due addosso attento Ken ahhh 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 guys 않 out al ahhh 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 e lo so che mi finta ma sto andando di classe oh ma sto bledding di merda va via o no madonna due ore mi sparo cazzo ma babbia ma cosa ho visto ora uno deve prendere il pompa l'altro aspetta uno all'accendino vero grande moro bisogna solo recuperare il pompa allora recuperatelo lo prendo io al volo dai uno spazio libero così non devo fare lo scambio di oggetti si è morto dai ragazzi schifate che se ne fotte di questo dito hai idea di quante volte sei morto cazzo tu cam vai verso la cisterna via diritti andate preso preso si aspetta prima di darmi fuoco arrivo vai butta frigati che che vuole non sulla benzina più lontano la benzina sull'asfalto dove è asciutta moro che cazzo fai ma lo dì ok calma 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 perchè non sai mai le cose basilari del primo livello cazzo è fatta è fatta cazzo si voleva dar fuoco insieme a tutti voleva far sacrificio moro finchia li stavo uccendo col coltello ahahah gg gg esplode cazzo nooo ahhh nooo il canyon di arancino guardalo nooo arancino ma davvero stiamo guardando questa cazzo dai mamma mia devo dirglielo ogni volta c'è uno in general ragazzi cordonale qua su discord si cale vabbè lo prendiamo dopo aspetta io devo ancora salire andiamo su non sei un vero pro come noi vabbè guarda come siamo pro guarda bastardi vi sto dando una mano non indifferente bastardi un'esca contro gli zombie e tu sei perfetto vieni qua ma si vorrebbe un quarto giocatore tipo nolan allora ma ferma che dammi una due pistole vai ti da una cura no mi ti da un cazzo è mia è due pistole ti da il fondo comunque non ho due pistole ne ho una l'altra scarica non è vero puoi trovare i folli no ormai quando io l'erbino piglia piglia guarda quello è già andato su già andato via guarda non ci aspetta moro vuole fare il pro gamer anche lui il pro gamer per il giorno non è vero chi? aiuto aiuto avanti aiuto aiuto te la do io ci sono pieno è verde, pigliatela so, vuole l'erba rossa? dammela dammela puttana, dammela brutta droga gulla ma vuoi anche te Giorgino, vuole l'erba rossa dammela moro ma usa quella, curati con quella che c'è il suo ecco lì ma che c'è il pesticida? ma fa bene ma c'aveva il pesticida e non l'ha usato contro quegli insetti ma sei uno stronzo, ok? ma non sapevo neanche che funzionasse ma serve solo per gli insetti adesso è inutile lo dovevi usare prima no se lo uso su moro beh un'altra erba verde, mamma mia il poliziotto ragazzi, uno, due eeeh 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 cercate roba al giro, cercate roba al giro ci può essere quaziosi no c'è una sega moro dai lo sappiamo già eeeh manneggia ho letto uoflio non so cosa consigliarti tu giochi solo a merda aspettessero lancia granate qualcosa al giro nulla si vorrebbe un quarto giocatore tipo gastino pesante no che gastino tipo gomboni la strada è troppo pericolosa e ora prendiamo la scuola eeeh eeeh mamma mia anzi io gomboni, gomboni e gomboni con tre gomboni una persona di spessore e romeo ormai ora per iiii su world of warcraft nooo non è vero non ci gioca più tanto allora colpi una pistola ti lascio un po' che il pompa li piglia io ho io una pistola ci ho due pistole piatene una e non lo pergo io sbagliatevi lo spray e me con iiii compito la pistola attosso un po' guarda no no lasciali a me facciamo così lasciali a me ti do il caricatore ma quante cacchi le cacchi di erbe verde ci sono al giro ho trovato un milione vedi sta merda ma che fai a fa' cosa ma poi non ha senso che ci sono due fucile a pompa e non lo vuole prendere coglione di un george come non l'ho preso vabbè no tu c'è quello del poliziotto eh è l'unico pompa che c'è in very hard qui c'è la magnum quindi su questa si potrà aprire questa porta qui quella porta di dietro no 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 su cade tutto dai a me basta questo sei colpi di questo si si la bomba la faccio io stavolta no moro calma eh non come l'ultima volta che hai provato a fare la bomba sei quasi fatto morire tutti hai detto bene quasi poco mancava hai detto quasi è più bella la vittoria così semplicemente comunque chi muore qua è un drogato eh eh god diglielo arancino diglielo i zombie mi senti di lady pesante pesante che ci dice che la mano vi cazzonite moro che non se neanche cos'è devi stare caldo che lo sai di che io vi chiamo per volfino che ha detto che ha detto se gobbon inizia un'attività di intinzaccati già ce lo vedo non dire cosi è gobbon no mica ha detto una cosa brutta guarda ti proteggo io proteggemi cazzo moro guarda ti proteggo 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 Dai! Devo caricare! Via! Ok NADDIO MEREDE! Noo, RIP zombie! CAZZOOOOOO! Guarda che scopre tutto, guarda, guarda! Tutto! Volano i zombie, i figli, volano tutto. Poverete, che ditto. Questo è Twitch quando crolla. È Twitch? Zitto, Moro. Niente, devi fare... Scusa, Moro, non volevo. Io sono Cindy, sono sopravvissuto! Non dire così! È filmato e che... È filmato e che lo ritieni. È il riassunto del video. Che si mette lì con lo scopettone a pulire le macerie. Pulirà la p***a città! Sai che non voglio vedere Giorgio? Potremmi saltare. Magari non abbiamo capito che cosa eravamo avuto. Non l'ho mai visto il finale di Giorgio su questo livello. Non l'ho mai usato. Beh, chi lo usa mai Giorgio? Sono solo un pazzo può usare Giorgio. La Giorgio sul 2 è utilissimo in realtà. Trasformare le erbe blu in pure. Vabbè, basta, dai. Stai provare il secondo CD se va? Sì. Torniamo nel 2. Sì.